Buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione del corso di tecniche di programmazione. Oggi insieme vedremo la seconda parte dell'esercizio che abbiamo iniziato la volta scorsa, gestore corsi, un semplice programma JavaFX che si basa sul database, scritti corsi, database che tra l'altro state anche utilizzando per il laboratorio numero 4. E permette di fare diverse cose, in particolare di analizzare i corsi sulla base del periodo didattico, e questo l'abbiamo fatto la volta scorsa, e oggi ci concentreremo sui due punti relativi all'analisi di un singolo corso. Prima di partire vorrei solo fare due precisazioni rispetto al video della volta scorsa, perché ci sono stati alcuni problemini. Il primo problemino è questo, magari molti di voi non se ne sono accorti, ma nella classe ConnectDB, la classe che ci permette di ottenere una connessione al database per poter effettuare le nostre interrogazioni. La volta scorsa ho utilizzato un qualcosa, una libreria in particolare che non avevamo ancora visto. Ovviamente in questi periodi è anche difficile sincronizzarci tra di noi, quindi pensavo avessimo già fatto questa parte, in realtà no, la vedremo più avanti. E quindi ho caricato su GitHub, ho corretto su GitHub questa classe, rimettendo la versione base di questa classe per chiedere le connessioni, versione base che avete visto con il professor Corno, dove sostanzialmente abbiamo la stringa di connessione, tutta qui, inclusa, incluso lo username e la password e utilizzo il driver manager di MySQL per ottenere la connessione al DB. La versione che abbiamo fatto insieme la volta scorsa è una versione avanzata di questa classe che attraverso l'utilizzo della libreria permette di ottenere queste connessioni in modo più efficiente, lo vedremo più avanti. Ricordate comunque che questa classe ConnectDB tipicamente sia nei laboratori che all'esame la riceverete già fatta, quindi non dovrete andarla a toccare, se no magari nel modificare lo username e la password a seconda del computer su cui la state utilizzando. Ok, quindi questa è la prima precisazione, che però non influisce sul resto dell'esercizio e sui punti salienti dell'esercizio. Un'altra precisazione è che come alcuni di voi mi hanno fatto notare sarebbe meglio avere le soluzioni in branch separate, concordo. La volta scorsa avevo caricato tutto su un unico branch perché la soluzione, il progetto di partenza era veramente vuoto, siamo partiti da zero, quindi potevate partire da zero anche voi. In ogni caso ho modificato anche questo, quindi su GitHub vedrete che il progetto gestore, il repository gestore corsi ora ha due branch, il master che contiene solo il progetto base da cui si può partire a sviluppare, e un altro branch soluzione prima parte che contiene tutta la soluzione che abbiamo fatto la volta scorsa insieme. In questo modo adesso per la seconda parte creerò un altro branch e farò commit push su questo ulteriore branch, quindi chi vuole può fare fork e clone di questo branch, se non l'ha ancora risolto e vuole partire allineato può fare fork e clone del branch soluzione prima parte e iniziare a seguire il video passo passo. Quindi io da Eclipse mi creo un nuovo branch che chiamo soluzione seconda parte che utilizzerò per fare commit push di quello che facciamo in questo video. Perfetto, l'ultima precisazione da fare è che purtroppo nel video iniziale c'è stato qualche problema relativo al mio software di registrazione e quindi c'era un buco, un piccolo buco di qualche minuto relativo alla definizione della query per questo punto qui, il secondo punto della prima parte. e quindi vediamo di rivederlo un attimo insieme, soprattutto la query. Cosa chiedevo a questo punto? Di stampare il numero di iscritti ai corsi di un determinato periodo didattico. Quindi l'utente nella nostra interfaccia grafica che posso lanciare... No, scusate, sto lanciando il file sbagliato. Main. Ok, lancio di qui la mia applicazione. Quindi l'utente inserisce qui un periodo didattico che può essere uno o due e cliccando il bottone numero studenti il programma mi stampa il numero di studenti per ogni corso relativo, in questo caso, al secondo periodo didattico. Allora, ragioniamo su questa query. La differenza sostanziale tra la prima e la seconda query è che nella seconda siamo obbligati ad utilizzare due tabelle nella query a fare una join. Questo perché la prima query chiedeva elencare tutti i corsi di un determinato periodo didattico. E la tabella corso, oltre ovviamente a includere i corsi, contiene anche l'informazione sul periodo didattico. Se apriamo un attimo il diagramma entità relazioni vediamo che la tabella corso direttamente contiene l'informazione del periodo didattico e quindi questa query era molto semplice, una banalissima select sulla stessa tabella. Se andiamo ad aprire la query, eccola qua, facilissima. A differenza di questa, la seconda query mi chiede di accedere a due tabelle. Perché? Perché il periodo didattico abbiamo visto che l'abbiamo nella tabella dei corsi. Ma nella tabella dei corsi non abbiamo il numero di iscritti, il numero di studenti iscritti. Quindi sicuramente dovremmo fare, dovremmo fare una join tra le due tabelle. Ora, visto che non ci serve in realtà tutta l'informazione relativa agli studenti, non ci serve il loro nome, non ci serve la loro matricola, ma solo il numero totale di iscritti, se noi guardiamo il diagramma questa informazione la possiamo recuperare direttamente dalla tabella iscrizione che mappa appunto le iscrizioni dei vari studenti ai vari corsi. Quindi ci basterà fare una join tra queste due tabelle senza considerare fortunatamente per il momento la tabella studente. Proviamo ad aprire il client, nel mio caso SQL Pro e proviamo a strutturare questa query. Quindi ci serve sicuramente una lista di corsi con a fianco il numero totale di studenti iscritti. Quindi come prima cosa imposto i campi per recuperare il corso che sono i soliti, quindi c.codings, c.nome, c.crediti, c.il periodo didattico, from corso as c. Dopodiché il filtro sul periodo didattico rimane anche qui come nella prima query, quindi c.pd uguale supponiamo 1. Adesso a fianco del corso voglio il numero totale di iscritti. Un numero totale mi fa subito venire in mente ad una funzione di aggregazione ben precisa che è il count asterisco as tot. Da dove lo prendo questo count? Diciamo così dalla join della tabella corso con la tabella iscrizione. Quindi selezionata la tabella, avrò ovviamente la condizione di join. Quindi c. Non mi ricordo, andiamo a vedere. Andiamo nel campo iscrizione, struttura. Vedete che sul campo codings c'è la join di questa tabella con la tabella corso, quindi c.codings uguale a i.codings. Non basta. Ovviamente avendo utilizzato una funzione di aggregazione, volendo calcolare il numero di iscritti per ogni corso, servirà ovviamente una group by. E qual è la regola per non sbagliare? La group by? Beh, è sempre quella di prendere tutti i campi che ho messo prima della funzione di aggregazione e metterli nella clausola di group by. Proviamo a lanciarla. C'è un errore nella sintassi. Ovviamente qui non è virgola ma è end. Riproviamo. Ecco qua, abbiamo un elenco di corsi con a fianco il totale degli studenti iscritti. Quindi questo era il processo per sviluppare questa, il processo mentale, diciamo così, per sviluppare questa query. Se noi andiamo a vedere nel DAO, avevamo proprio predisposto questa query. Ovviamente al posto del periodo didattico abbiamo messo un punto interrogativo che viene poi, diciamo così, riempito con la set-in. E poi da qui in avanti il video proseguiva normalmente, quindi direi che era importante rivedere quantomeno la logica dietro a questa query un po' più complessa della prima. Perfetto, possiamo tornare al nostro, al testo del nostro laboratorio e iniziare a sviluppare la seconda parte relativa all'analisi dei singoli corsi. Anche qui due punti, uno un po' più facile, l'altro un po' più difficile. Quindi, partiamo ovviamente dal primo, il primo punto ci chiede di elencare tutti gli studenti di un determinato corso. Quindi l'utente inserisce il codice di un corso e il programma stampa tutti gli studenti iscritti. Quindi, in questo caso, abbiamo da stampare l'informazione sugli studenti. Se noi andiamo a vedere nel nostro package model, abbiamo già la classe corso, perché banalmente abbiamo stampato dei corsi, ma non abbiamo ancora la classe studente. Vi ricordo che, come detto l'altra volta e come vedremo più avanti, in modo più teorico, esiste un pattern chiamato Object Relational Mapping che ci dice che per ogni tabella di interesse da cui vogliamo estrarre dei dati dal database, possiamo prevedere una classe Java che si mappi su tali tabelle, classi Java che devono chiamarsi allo stesso modo della tabella nel DB e con gli stessi campi. D'accordo, allora prevediamo già subito, visto che dobbiamo stampare degli studenti, una classe studente. classe studente che avrà esattamente i campi che ha nella tabella del DB. Andiamo a vederne la struttura, abbiamo una matricola che è un intero, la chiave primaria, cognome, nome e CDS che sono tutte e tre stringhe, tutte e tre stringhe che rappresentano appunto il cognome, il nome e il corso di studi degli studenti. Benissimo, allora avremo un campo privato integer che è la matricola dello studente e tre stringhe, una per il nome, una per il cognome e una per il corso di studi. Ovviamente prevediamo un costruttore per costruire delle istanze della classe studente, posso utilizzare Eclipse per farmelo autogenerare. Costruttore basato su tutti i campi. Poi ho bisogno dei vari getter e setter, anche qui possiamo farceli generare da Eclipse. E come al solito, essendo questa una nostra classe, visto che probabilmente andremo ad inserirla in qualche struttura dati basata su un hash code per esempio, e visto che dovremmo magari fare dei confronti tra varie istanze di questa classe, è obbligatorio ridefinirsi metodi hash code ed equals. Vi ricordo che quando stiamo interagendo, creando dei programmi che interagiscono con dei database, è abbastanza facile capire come definire questi hash code ed equals. Banalmente si definiscono sulla chiave primaria di questa tabella, perché siamo sicuri che due studenti diversi avranno per forza matricola diversa. Molto bene, salviamo e abbiamo la nostra classe studente. Adesso vediamo cosa, riguardiamo cosa chiedeva bene l'esercizio, quindi elencare gli studenti dato il codice di un corso. Proviamo a sviluppare questa query prima nel client SQL e poi la portiamo qui nel nostro programma, come al solito. Se guardiamo bene il nostro diagramma, vediamo che anche in questo caso dovremmo prevedere una join tra due tabelle. abbiamo due tabelle, visto che probabilmente per gli studenti vogliamo stampare anche il cognome, il nome, eccetera, abbiamo bisogno di questa tabella, ma per capire, per recuperare l'informazione dell'iscrizione al corso, ovviamente ci serve questa tabella. Direi che questa è superflua, perché l'esercizio chiede dato il codice di un corso e questo codice è già nella tabella iscrizione, quindi con una join tra queste due tabelle noi riusciamo ad avere quello che ci interessa. Andiamo sul client, query, cancelliamo un po' di cose. Allora vogliamo le informazioni relative agli studenti, le prendiamo tutte ovviamente, quindi s.matricola, s.nome, s.cognome, s.cds. Da dove? Dalla tabella studente, che rinomino in s, ma abbiamo detto ci serve anche la tabella iscrizione per impostare il codice del corso inserito dall'utente. Quindi where? Prima cosa, clausola di join, che in questo caso è su matricola, s.matricola uguale i.matricola, and i.codings uguale il codice inserito dall'utente. Andiamo a prenderci il codice di un corso a caso, ad esempio questo, per provare la query, tra virgolette, eccolo qua. Proviamo questa query, direi che funziona, questi sono ragionevolmente tutti gli studenti iscritti al corso che ha questo codice. quindi join tra due tabelle con una clausola qui, che specifica il codice del corso desiderato. Perfetto, prendiamo questa query, la copio, e vado qui in Eclipse. Allora, anche qui possiamo scegliere se crearci un nuovo DAO o utilizzare quello che abbiamo già. Visto che qui otteniamo un'informazione, il numero di studenti, sulla base di un corso, direi che questo metodo può star bene sempre nel corso DAO. Quindi questo metodo, che cosa ritornerà? Una lista di studenti. Possiamo chiamare get studenti by corso. Importo la classe studenti. Questo metodo riceverà come parametro il codice di un corso. Allora, qui abbiamo due possibilità. La prima è avere direttamente il codice modellato come parametro, banalmente una stringa, che dall'esterno viene passata a questo metodo. L'altra modalità, che forse avete visto in altri, in altri esercizi, è quella di avere un oggetto corso che non è riempito per tutti i campi, ma solo per il campo che ci interessa, in questo caso il suo codice. Non c'è molta differenza tra le due soluzioni, direi che vanno bene entrambe. Entrambe proviamo a seguire questa, visto che l'altra volta abbiamo seguito l'altra strada, di passare direttamente il parametro come tipo base, chiamiamolo così. Perfetto. Al solito abbiamo la stringa che contiene la query, che vado ad incollare. Dobbiamo sistemarla un po'. In particolare dobbiamo togliere gli islescenne, poi vi ricordo di lasciare sempre uno spazio al fondo di ogni riga, se no incorrete in errori di sintassi. E al posto del parametro qui mettiamo un punto interrogativo, perché andremo a settarlo. da codice. Poi abbiamo la struttura dati per ritornare i risultati, in questo caso una lista di studenti. la creiamo già, direi che in questo caso non ci sono grosse differenze tra creare una linked list o un array list. scegliamo la prima. Importo un attimo le classi. Dopodiché il pattern rimane bene o male sempre lo stesso, quindi il solito tra i catch, se arriviamo in questo punto qui vuol dire che tutto è andato a buon fine, posso ritornare la mia lista di studenti. All'interno del try catch le solite istruzioni, quindi connection con uguale connect db.get connection. mi faccio dare, apro una connessione al db. Creo un prepared statement, che è il meccanismo con cui noi andiamo a inserire dinamicamente poi i parametri all'interno della query. e appunto in questo prepared statement vado a inserire il mio parametro. In questo caso è una stringa, non è più un intero come nei metodi precedenti. L'indice abbiamo solo un parametro, quindi è il primo, e il parametro in questo caso sarà corso.getCodings. Vedete la differenza? se avessi avuto una stringa qui gli passavo direttamente la stringa Codings. In questo caso abbiamo scelto di avere un oggetto corso e quindi vado a prendermi il suo codice. Eseguo la query e ne salvo i risultati in un result set. Result set che poi vado a scorrere per recuperarmi tutti gli studenti che questa query mi darà. finché c'è un risultato nel result set lo prendo e ne faccio quello che voglio. In questo caso lo metto nella lista. Quindi è una stringa ma è uno studente. S uguale new studente. E qui devo andargli ad indicare tutti i campi da estrarre dalla query. Quindi rs.getInt della matricola. Perché è un intero. Gli altri sono tutte stringhe. rs.getString nome rs.getString cognome e rs.getString cds preso lo studente dicevamo lo aggiungiamo alla nostra lista. Quindi studenti.add s se non si scatenano eccezioni questa lista viene poi ritornata al chiamante che in questo caso sarà sicuramente il modello. modello che andiamo adesso a modificare per includere anche la chiamata a questo metodo. Magari me ne copio già il nome visto che la volta scorsa abbiamo iniziato a chiamare i metodi del DAO esattamente come i metodi del modello. Possiamo continuare a seguire questa prassi. quindi il modello offrirà un metodo che si interfaccia al DAO per recuperare la lista di studenti. Come parametro abbiamo detto utilizziamo un oggetto corso e questo metodo semplicemente richiama il metodo del DAO. saliamo ancora di un livello e ci spostiamo al controllore controllore che ha già i metodi predefiniti solo più da solo più da riempire in particolare se non mi sbaglio questo è relativo al primo punto nel controllore la prima cosa da fare è sempre recuperare l'input dell'utente in questo caso l'input dell'utente è il codice di un corso che sarà una stringa essendo già una stringa il parametro non dobbiamo convertire quello che ci ritorna la getText dell'area di testo quindi txt come l'abbiamo chiamata corso la getText ci restituisce direttamente la stringa che dovrebbe essere il codins inserito dall'utente cos'è che potremmo fare? beh potremmo controllare se il codice corrisponde a un corso esistente questo potrebbe essere un controllo degli errori diciamo così dell'input da poter fare qui altrimenti possiamo prevedere di passare qualunque input dell'utente al modello e poi di conseguenza al DAO e se per caso questo codice non esiste il DAO e il modello ci ritorneranno una lista vuota e in quel caso stamperemo il corso non prevede studenti ecco la differenza è che non potremmo capire in questo modo se la ricerca non è andata a buon fine perché il corso non ha iscritti per il momento o perché il corso proprio non esiste quindi forse sarebbe meglio controllare prima di passare il parametro al model e poi al DAO controllare se questo corso esiste per il momento lasciamolo lì eventualmente lo facciamo dopo concentriamoci sul sul resto della richiesta quindi qui vado a recuperarmi la mia lista di studenti this punto model punto get studenti by corso allora qui abbiamo deciso di usare un oggetto corso quindi ne vado a creare uno in cui riempio solo l'istanza con il codice codins e tutti gli altri campi quanti sono non me lo ricordo ma andiamo a vedere subito uno due tre gli lascio vuoti quindi lo metto a null un trucchetto per crearsi al volo un oggetto corso che poi viene usato nella nella ricerca devo importare la classe studente poi potremmo dire se studenti punto size uguale uguale a zero potremmo stampare il corso non non studenti iscritti e poi ritorniamo se così non è quindi se c'è almeno uno studente posso stampare la lista degli studenti ad esempio posso come ho fatto qui per i corsi scorrere la lista e stampare riga per riga ogni studente s punto to string con magari la capo ad ogni riga quindi più slash n questo to string mi fa venire in mente che non abbiamo appunto definito un to string per la classe studente quindi vado sulla classe studente e mi ridefinisco sempre grazie ad eclipse source generate to string cosa stampiamo matricola cognome nome magari evitiamo il corso di studi per il momento se no se no viene una una stringa troppo lunga e magari ci togliamo anche la scritta studente le parentesi graffe quadre e magari anche questa scritta matricola la togliamo tanto sappiamo che la prima il codice è la matricola e togliamo anche le stringhe generate ci mettiamo solo uno spazio tra la matricola e il nome e uno spazio tra il nome e il cognome magari anzi tra la matricola e il nome e cognome ci mettiamo un trattino perfetto torniamo nel controllore dimentichiamo qualcosa direi la clear all'inizio txt result punto clear txt il risultato scusate ok proviamo a lanciare il nostro programma proviamo andare a prendere di nuovo il codice di un corso a caso dal db prendiamo di nuovo questo va benissimo lo copio e lo vado ad inserire qui proviamo a stampare gli studenti direi che ci siamo sembrerebbe funzionare il problema con questa soluzione come ho già accennato prima è che se io metto il codice di un corso inesistente non riesco a distinguere per come è fatto adesso il programma se il corso esiste ma non ha studenti iscritti o il corso proprio non esiste in questo caso mi è tornata una stringa vuota di studenti ovviamente e io avevo previsto nel controllore questo messaggio in realtà questo messaggio di errore non è corretto perché il corso non è che non ha studenti iscritti non esiste proprio quindi come dicevamo è sempre bene controllare che questo corso esista veramente altrimenti stampare un messaggio di errore appropriato come facciamo direi che nel nostro DAO non abbiamo ancora un metodo che ci permetta di fare questo ma lo possiamo impostare in modo molto facile visto che è un metodo che ci deve dire sì no esiste non esiste direi che il valore di ritorno adatto è un booleano chiamiamo questo metodo esiste corso a cui passiamo di nuovo qui abbiamo le due opzioni o un oggetto corso riempito solo con il codice oppure direttamente il codice è uguale stavolta seguiamo questa strada come facciamo a controllare se nel db esiste un corso direi con una select e se la select non restituisce risultati vuol dire che questo corso non esiste quindi string sql uguale select asterisco from corso where codings uguale punto interrogativo qui visto che dobbiamo ritornare solo vero falso non ci serve nessuna struttura dati per contenere il risultato abbiamo subito il nostro try catch all'interno del quale apro la connessione mi creo il prepared statement vado a impostare il parametro che in questo caso è di nuovo una stringa l'indice ne abbiamo solo uno codings eseguo la query adesso vediamo se abbiamo qualche metodo per stavo guardando se c'è qualche metodo per dirci quante righe contiene questo result set forse no quindi un modo facile per farlo è questo if rs.next quindi se c'è un valore nel result set questa rs.next ritornerà true ok non ci serve in questo caso fare il while anche perché siamo sicuri che di corso con quel codice ce ne sia al massimo uno e poi non vogliamo recuperare tutte le informazioni ma solo vedere se c'è o non c'è quindi se il result set contiene contiene almeno una riga allora ritornerò vero questo corso esiste altrimenti ritorno ritorno falso attenzione però ho volutamente dimenticato la parte più importante prima di ritornare devo chiudere la connessione attenzione sto usando un metodo un metodo rischioso come vedete qui nei metodi che abbiamo sviluppato in precedenza io avevo un'unica return avevo previsto un'unica return e quindi mi bastava chiudere la connessione prima di quest'unica return qui volutamente ho definito il metodo definendo due return in questo caso occhio attenzione che la connection punto close non basta metterla qui dobbiamo metterla ovviamente anche qui cioè prima di ogni return altrimenti io chiudo la connessione in questo caso ma non nell'altro e quindi rimane comunque un problema che a lungo andare può influire sul nostro programma quindi regola da controllare sempre nei nostri metodi del DAO prima di ogni return ci va sempre la connection punto close se ho più return nel mio nel mio metodo del DAO dovrò anche avere una multipla connection punto close cioè devo essere sicuro di chiudere sempre la connessione adesso il solito passo in alto verso il modello che mi esporrà il controllore questo metodo del DAO boolean esiste corso string codings return DAO punto esiste corso codings adesso dal mio controllore posso usare questo metodo per controllare l'input dell'utente quindi qui togliamo il to do ma dico che controllo se il codice corrisponde a un corso esistente quindi if this punto model punto esiste corso codings diciamo che non sono molto interessato a capire se esiste ma se non esiste quindi se non esiste not davanti stamperò l'errore appropriato quindi txt risultato punto txt risultato punto append text il corso non esiste slash n se non esiste return proviamo lancio il programma a questo punto se inserisco un codice inesistente il programma mi stampa effettivamente un errore appropriato il corso non esiste bene direi che il primo punto è fatto lasciatemi chiudere un po' di finestre e andiamo a vedere di risolvere l'ultimo punto di questo esercizio che richiede dato sempre il codice di un corso stampare la divisione degli studenti iscritti tra i vari corsi di studio perché come sapete l'ho già detto nel primo video ci sono corsi in cui gli studenti possono arrivare da corsi di studio differenti alcuni saranno gestionali altri informatici eccetera ragioniamo su sui possibili modi di fare questo questo punto allora abbiamo un modo forse più più semplice concettualmente che è quello di recuperarsi tutti gli studenti iscritti banalmente con quello che abbiamo fatto in questo punto qui nel primo punto e poi lato programma lato java andare a scorrere questi studenti e vedere i corsi di studio a cui appartengono e fare delle statistiche sulla struttura dati presente in memoria nel programma questa è la prima soluzione che vedremo l'altra soluzione forse un po' più complicata dal punto di vista logico è quella di avere una query che automaticamente ci restituisce esattamente quello che vogliamo quindi la divisione degli studenti per corsi di studio questo prevede la stesura di una query un po' più complicata ma ne beneficia forse la performance le performance del programma quindi se noi riusciamo tutto quello che riusciamo a far fare al al db diciamo così tramite tramite le query è tutto di guadagnato lato performance del nostro programma perché otteniamo direttamente l'informazione che ci serve se strutturiamo bene la query inoltre evitiamo anche di inserire errori nei nostri programmi perché ovviamente più linee di codice scriviamo più le probabilità di avere degli errori nei nostri programmi crescono allora partiamo dalla prima soluzione il primo modo di affrontare il problema che è quello di sfruttare quello che abbiamo già fatto quindi questo metodo per ottenere gli studenti dato un corso per poi analizzare studente per studente recuperare l'informazione relativo al corso di studi giusto per chiarire quello che mi aspetto è di avere un elenco in cui ci sono elencati i corsi di studio presenti diciamo così nel corso inserito dall'utente quindi andiamo sul controllore scriviamo un commento perché altrimenti non ci capiamo quello che mi aspetto dicevo è di avere un elenco di codice di insegnamento non codice di insegnamento codice corso di studi scusate mi sono impappinato che ne so informatica con a fianco il numero di studenti di informatica gestionali con a fianco il numero di studenti gestionali quindi dato un corso ci aspettiamo una divisione del genere d'accordo quindi dato il corso x y z in questo corso ci sono 12 studenti di informatica 28 gestionali eccetera quindi la prima opportunità potrebbe essere questa apriamo il modello e prevediamo un metodo che ci ritorni che cosa allora per avere questa struttura dati qui una possibilità è avere una mappa in cui la chiave sia il corso di studi stringa e il valore sia il numero di studenti appartenenti a quel corso di studi in quel corso quindi map di stringa integer get divisione cds dato che cosa dato un corso il codice in particolare allora dicevo come posso fare posso sfruttare quello che ho già fatto cioè posso andarmi a prendere la lista di studenti di un determinato corso l'abbiamo appena fatto dao punto get studenti by corso new c punto codings no devo passargli direttamente il corso perché sarà poi il metodo del dao che eseguo questa c punto get codings perfetto ho questa lista di studenti e adesso la scorro per estrarre le statistiche di cui ho bisogno dicevamo queste statistiche le vogliamo ritornare tramite una mappa che ci sembra la struttura dati più più appropriata per contenere quello di cui abbiamo bisogno chiamiamo statistiche che tipo di mappa beh sicuramente qui ci viene molto utile l'hash map lo vedremo tra poco perché perché anticipo che come dovresti già sapere le chiavi all'interno di una hash map sono univoche ed è proprio quello che ci serve avere uno per uno individualmente i corsi di studi in una determinata riga della mappa con a fianco il numero di studenti appartenenti a quei corsi di studi adesso per ogni studente mi chiedo la mappa contiene già questo il codice il corso di studi di questo studente if statistiche punto contents key s punto get cds se se questa mappa contiene già il corso di studi di questo studente semplicemente vado ad incrementare di uno il valore che ho previsto per tener traccia del numero di di studenti quindi statistiche punto put ovviamente devo sovrascrivere il valore che c'è attualmente s punto get cds s punto get scusate ora devo andarmi a prendere dalla mappa il valore corrispondente quindi s punto no scusate statistiche punto get s punto get cds più uno non so se è chiaro se mi sono spiegato bene il procedimento che sto seguendo io immagino di avere una mappa in cui le chiavi sono tutti i corsi di studi e i valori sono partono da zero e ogni volta che incontro il corso di studi incremento di uno questo questo valore alla fine di questo ciclo for la mia idea è di avere ovviamente corso di studi con a fianco il numero totale di di studenti in quel corso nel corso c quindi se esisteva già incremento di uno altrimenti creo questa entry relativa al corso di studi quindi statistiche punto put s non so perché me lo cambia sempre in compute punto put s punto get cds virgola uno è il primo che incontro se lo incontrerò di nuovo entrerò in questa if e incrementerò di uno il valore alla fine del for ritorno la mia mappa quindi vedete non ho toccato il dao ho usato tutta roba che avevo già però mi sono dovuto un po' ingegnare a capire che struttura dati è bene utilizzare in questo caso una hash map cosicché posso controllare se una chiave esiste già e no o no e fare le mie scelte e poi ho dovuto prevedere un contatore per tenermi conto dei corsi di studi man mano che scorro gli utenti quindi in questo caso non è così difficile però richiede già un minimo di di ragionamento sul codice e sicuramente le possibilità di inserire degli errori in questo ragionamento sono aumentate quindi speriamo di aver fatto tutto giusto ma bisognerà controllare non passo dal dao vado direttamente al controllore e mi recupero dal modello questa mappa quindi una mappa di stringa integer stat statistiche uguale dis.model.get divisione cds trucchetto oggetto corso dove viene valorizzato solo il codice ovviamente questo codice lo devo recuperare dall'input dell'utente posso copiare direttamente da quello che abbiamo fatto prima compreso il controllo se il corso esiste recuperate le statistiche mi basta solamente più stamparle per stampare una mappa l'avevamo già fatto la volta scorsa esatto proprio qui un modo è di farci dare l'elenco delle chiavi iterare su queste su questo elenco e stampare per ogni chiave il valore corrispondente quindi for le chiavi sono stringhe cds in statistiche punto get keys no keyset e poi txt risultato punto append text la chiave quindi il corso di studi uno spazio ovviamente si potrebbe formattare meglio ma non ci interessa in questo momento spazio il valore associato a questa determinata chiave statistiche punto get cds più uno slash n finale provo a lanciare anzi prima vado a recuperarmi di nuovo un codice di un corso esistente tanto per fare la prova questo va benissimo proviamo a lanciare il programma inserisco il codice del corso provo a stampare la divisione ok vediamo che i corsi di studio vabbè non si chiamano informatica gestionale ma si chiamano in questo modo un po' strano direi che qui abbiamo 232 gestionali di un certo tipo questi c'è un gestionale probabilmente di un altro tipo vedete che qui c'è una z e qui c'è un 2 quindi sono due chiavi diverse poi abbiamo un meccanico probabile e poi c'è un 1 vuoto questo mi fa pensare che all'interno del db ci siano degli studenti non associati a nessun a nessun corso corso di studi se vogliamo evitare questa stampa che effettivamente è un po' è un po' brutta proviamo andare a vedere nel modello potremmo prevedere l'aggiunta la la modifica della nostra mappa di statistiche solo se f.get cds è diversa da nullo se vogliamo proprio essere sicuri e non è uguale alla stringa vuota quindi se questo è il caso se passa questo controllo modifico le mie statistiche si ovviamente non è s.equals ma è s.getcds .equals proviamo adesso l'estampo non gli studenti ma la divisione ok vedete che quell'uno spaiato non c'è più dicevamo questo è la prima il primo modo di svolgere questo ultimo punto l'altro modo è quello di passare direttamente da una query cioè io non voglio più avere tutta questa logica applicativa perché io il risultato finale lo posso ottenere con un minimo sforzo in più direttamente da una query sql torniamo un attimo sul db questa se vi ricordate è la query che abbiamo fatto all'inizio di questo video che mi seleziona tutti gli studenti appartenenti a un determinato corso adesso io non voglio più tutti gli studenti ma voglio selezionarmi solo il corso di studi di questi studenti non solo oltre al corso di studi voglio contare quanti studenti ci sono proprio di questo corso di studi di nuovo contare mi fa subito venire in mente la funzione di aggregazione count asterisco as tot ad esempio questo rimane sempre perché ovviamente il codin si è inserito dall'utente ma quello che voglio fare è voglio raggruppare ovviamente per corso di studi perché perché voglio appunto contare quante righe ci sono per ogni corso di studi univoco e quindi groupby la solita regola tutto quello che c'è prima della funzione di aggregazione va nella groupby s.cds se io lancio questa query vedete che automaticamente recupero esattamente quello che avevo recuperato in precedenza con la logica applicativa compreso l'uno spaiato che non mi piace ma al massimo lo togliamo lo togliamo dopo lato codice d'accordo o altrimenti potremmo anche provare a toglierlo di qui quindi s.cds diverso da stringa vuota proviamo un po' esatto lo possiamo togliere anche direttamente da qui avanziamo un controllo in più lato lato codice quindi vedete che con due piccolissime aggiunte ovviamente bisogna sapere quello che si sta facendo alla query di prima ci evitiamo in questo caso una decina di linee di codice e qui non ce ne accorgiamo ma ne guadagniamo anche in performance vedremo che quando lavoreremo con strutture dati come i grafi nella creazione del grafo ci sarà spesso questo dilemma tra eseguire più codice lato lato eclipse diciamo così oppure far fare tutto alla query bene far fare tutto alla query spesso fa la differenza tra il riuscire a far terminare il programma oppure no e quindi può incidere molto sulle sulle performance allora strutturiamo anche questa seconda soluzione chiamiamola così in eclipse mi copio la query torno in eclipse commento un attimo questa soluzione mettiamo un commento soluzione soluzione 1 e strutturiamo l'alternativa ovviamente l'alternativa prevede di passare dal dao questo mi pare ovvio perché dobbiamo implementare questa questa query qui forse concettualmente ci sta bene una nuova classe studente dao perché recuperiamo ma in realtà no in realtà ci sta bene anche in corso dao perché comunque sono sempre statistiche sulla base a partire da un corso quindi direi che possiamo prevedere questo metodo anche all'interno dello stesso corso dao non è che faccia molta differenza avere una classe in più o in meno cosa ritorniamo io direi che la struttura dati per ritornare i risultati può rimanere benissimo la stessa anche perché come vediamo dalla query questa struttura dati si presta bene a essere salvata in una mappa quindi anche il metodo del dao prevediamo restituisca una mappa di cosa di string integer chiamiamola allo stesso modo come al solito nel metodo del model il parametro rimane sempre nel corso solito pattern stringa incollo non ce l'ho più devo andarla a riprendere copia incollo la sistemo tolgo gli slash n prevedo lo spazio finale punto e virgola finale togliamo il codice del corso e mettiamo un punto interrogativo ho dei dubbi che possa funzionare questo backslash con gli apici ma vediamo dopo se dà se dà problemi qui non ritorniamo solo un booleano come in un metodo che abbiamo fatto prima in particolare esiste corso ma ritorniamo appunto una mappa quindi dobbiamo definircela abbiamo detto che in questo caso è bene che sia una hash map il solito try catch che copio di qui e imposto già che se tutto andrà bene ritorno la mia mappa all'interno del try catch mi faccio dare la connessione creo il prepared statement sulla base della stringa che contiene la query imposto il parametro è uguale a questo quindi sempre una stringa no non ce l'ho st punto set string uno c punto get codings eseguo la query e salvo il risultato nel result set scorro il result set scorro il result set quindi while rs punto next se ci ci sono dei risultati devo creare una entry nella mia mappa quindi statistiche punto put come al solito qual è la chiave il cds quindi res rs punto get string cds qual è il valore il risultato della funzione di aggregazione che ho rinominato come tot quindi rs punto get int tot fine questo while riempie le mie statistiche e poi lo ritorno fine diciamo così un corno perché ho dimenticato con punto close cosa che avevo fatto anche qui vedete come è facile dimenticare questa benedetta connection punto close ok per il resto ci siamo adesso torniamo al model il model diventerà molto più snello semplicemente return dao punto get divisione cds c e vedete la i benefici del pattern model view controller perché io adesso il controller lo posso lasciare esattamente com'era non devo toccarlo ho modificato il modello e il dao il controller che gestisce l'interfaccia grafica rimane esattamente lo stesso quindi questo è il vero beneficio di strutturare i nostri programmi seguendo il pattern model view controller proviamo a lanciare di nuovo vado a prendermi un codice di un corso dobbiamo cambiarlo troviamo questo qua stampo benissimo sembra funzionare questi sono i corsi di studi e questo è il numero che mi rappresenta quanti studenti di quel corso di studi ci sono nel corso 0 1 0 v y eccetera ok questo conclude il nostro esercizio adesso farò anzi lo facciamo subito commit push siamo sul branch soluzione seconda parte quindi creerà un nuovo branch commit push va bene vi ringrazio per per l'attenzione e ci vediamo nei prossimi video